Smettila di spiegare le cose. Smettila di ragionare sulle cose. E men che mai ragionare sui problemi, di cronicizia. Il pensiero non è fatto per indagare le cose della psica. Smetti di pensare al passato. Smetti di pensare ai traumi. Incomincia a immaginare un panorama che ti piace, un fiore che ti attrae, un animale per cui senti un'affinità senza saperlo, ti stai collegando ai tuoi lati primordiali, antichi. Sono loro che ci proteggono. Sono loro che ci curano. Perché qualsiasi cosa ci accaduta è accaduta soprattutto. È reale perché conteniamo a tenere in vita quei pensieri altrimenti sbaglierebbe come l'uomo umano. che si ne vanno. E le c'è indiceva che un uomo non vale l'altro. Le vende, è il mare. Sei seduto sul tuo mare. E cosa si mette la posta da sole?